ha sbagliato di 5 più 9 14 secondi però posso dare un indizio perché io qua ho il giro che ho fatto partendo alle 9 32 arrivato alle 11 16 e 55 secondi con un tempo di 1 ora 44 minuti e 55 secondi il vincitore è Brodico d'Oro no 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.